Buongiorno dell'ultima TG, romeni ridotti in iscavitù, la storia arriva da Ragusa, nelle intercettazioni della polizia emergono le disumane condizioni in cui vivevano le vittime di 5 romeni, ora fermati alle forze dell'ordine per reati connessi al fenomeno del caporalato. Una storia drammatica, dolorosa, che ricade sulla pelle di chi, disperato, lascia la propria terra in cerca di un futuro migliore, nella speranza di poter mettere un po' di soldi da parte e inviare tutto alla famiglia. C'è però chi approfitta di questa necessità, ma c'è anche chi trova il coraggio di denunciare. La storia, una come tante, arriva da Ragusa, dove la polizia ha fermato 5 romeni per caporalato, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Erano loro che gestivano l'intera tratta di esseri umani. L'operazione è stata chiamata Boschetari, che romeno significa senza tetto, perché la banda curava tutto dall'inizio, prima il reclutamento in Romania, poi il trasferimento in Italia e l'immissione nel settore del lavoro agricolo di numerosi connazionali, tutti scelti tra persone in stato di estremo bisogno, analfabete o appena capaci di leggere e scrivere. Le indagini coordinate dalla procura distrettuale di Catania sono state avviate dalla squadra mobile dopo la denuncia di un romeno, attirato come gli altri, con l'inganno e la falsa promessa di un lavoro, di una casa dignitosa e poi invece privato di ogni facoltà di negoziare condizioni anche di vita. La triste realtà era quella di alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti ritirati dai rifiuti e vito scadente o scaduto erano l'unica paga che il gruppo di romeni davano ai loro connazionali in cambio di lavoro nei campi o per alcune giovani, anche minorenni, obbligandole a prostituirsi e chi si ribellava era vittima di violenze inaudite. Lo vedete anche dalle intercettazioni che parlano di cibo scaduto per i poveri romeni, tanto loro mangiano tutto, questa la triste realtà. I fermati, tra cui due donne, sono Luciane Milea, la compagna, Monica Jordan, Marianne Monteau, Alice e Marianne Oprea. Il provvedimento di fermo è stato adottato anche nei confronti di un sesto connazionale che non è ancora stato rintracciato. Secondo quanto accertato, sarebbero state 13, tra cui 4 minorenni, le vittime del traffico di esseri umani gestito dalla banda. Milea e Jordan sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e di traffico di esseri umani commessi a danni di connazionali, alcune dei quali i minorenni. Tutte le numerose vittime presenti sul territorio sono ospiti di un'associazione antitratta specializzata in quella a scopo di sfruttamento lavorativo. E sull'argomento è intervenuto anche il segretario generale della FLAI, CGL Sicilia, Alfio Mannino, che sottolinea che l'azione delle forze dell'ordine non può essere sufficiente. Alla repressione bisogna anche, infatti, accompagnare misure di prevenzione, stringendo innanzitutto le maglie dei controlli. Parliamo adesso di politica. Dal patto dell'arancino, siglato dal centrodestra a Catania lo scorso 3 novembre, si passa al patto del tonno, che vedrebbe Matteo Salvini, la sua lega maggiormente protagonisti in Sicilia, anche grazie al supporto del presidente Nello Musumeci. Ce ne parla Santi Ligè. Era il 3 novembre dello scorso anno. I leader nazionali del centrodestra si trovavano a Catania per sottoscrivere un'alleanza che vedeva Nello Musumeci come candidato unico per la regione siciliana. Una cena per siglare quello che poi sarebbe passato alle cronache, come il patto dell'arancino, una collaborazione che partiva dall'isola per arrivare alle politiche del 4 marzo. Ma i risultati nazionali hanno visto la coalizione non raggiungere la quota utile a governare e allora gli scenari sono cambiati. Al governo oggi ci sono Movimento 5 Stelle e Lega, due forze che lo scorso inverno sembravano assolutamente incompatibili. Un feeling inaspettato, quello tra Di Maio e Salvini che ha sconvolto le logiche dell'intero centrodestra. Il punto di riferimento dell'elettorato è il leader del carroccio che vola nei sondaggi guadagnandosi le attenzioni anche di alcuni politici che sono pronti a saltare sul carro del vincitore. E così a distanza di sette mesi si forma un nuovo tavolo a Pozzallo. C'è Musumeci, presidente della regione siciliana, e c'è Matteo Salvini, adesso ministro dell'interno, e i due sembrano aver messo da parte alcuni rancori nati dopo la mancata assegnazione di assessorati regionali alla Lega. Musumeci chiede che la Sicilia abbia un occhio di riguardo a Roma e Salvini chiede in cambio di essere riconosciuto come nuovo leader unico del centrodestra. Salvini afferma che Di Maio e Compani si sono dimostrati affidabili, ma non ha comunque nessuna intenzione di spaccare la coalizione. Musumeci è soddisfatto, non si parla di poltrone, per il momento, ma di un accordo tra i due, in vista anche delle prossime europee. Il patto del tonno, così è stato definito, assicurerebbe un appoggio totale della Lega all'attuale governo regionale. Un vantaggio non indifferente per Musumeci, considerando che a far visita a Salvini sono andati in tanti. Non passa di certo inosservato il deputato Vincenzo Figuccia, arrivato a Pozzallo per parlare con lo stesso Salvini, e che a cambiare a casacca ci sta pensando e come. Anche Forza Italia potrebbe perdere persi all'Ars e la Lega potrebbe raccoglierli con molta facilità. Gli scenari siciliani sono dunque tutti da scoprire e verranno svelati solo nei prossimi mesi. Andiamo a Palermo perché ad un anno esatto dalla riconferma del sindaco Leo Luca Orlando si va verso il rimpasto della giunta prevista nelle prossime settimane, anche le nomine dei consigli di amministrazione delle società partecipate. Il vertice che si è svolto l'altro ieri a Villa Niscemi e che ha riunito i capigruppo delle forze politiche di maggioranza è servito al sindaco Orlando per tracciare il percorso che nelle prossime settimane servirà a definire importanti aspetti nella guida della città. Sul piatto c'è, oltre all'approvazione del bilancio consolidato previsto entro la settimana, la nomina dei consigli di amministrazione delle aziende partecipate del Comune e la designazione di nuovi assessori. E riguardo proprio quest'ultimo punto, gli assessori, i nomi in bilico sarebbero non meno di tre, di un vero e proprio rimpasto di giunta, quindi si tratterebbe ad un anno esatto dalle elezioni comunali. Sarà proprio l'approvazione del bilancio consolidato, tra l'altro a dare il via a un riassetto delle partecipate e a consentire la nomina dei direttori generali e dei CDA delle partecipate. In questo momento abbiamo visto che c'è qualche difficoltà, soprattutto relativamente alle partecipate, è stato un incontro assolutamente positivo che abbiamo fatto col sindaco e capigruppo di maggioranza, proprio per dare un nuovo volto, una nuova linfa, una nuova spinta alle aziende partecipate che come stiamo vedendo adesso nel bilancio consolidato devono camminare di pari passo con l'azione politica della città. Ci sono delle difficoltà oggettive anche in seno alla giunta e di conseguenza insieme al sindaco poi deciderà lui, ma molto laicamente si ragionerà su quello che sarà un nuovo volto e per dare appunto uno slancio positivo alla città nell'azione politica. Dalle fila dell'opposizione emergono le perplessità e toni polemici da parte del leader dei coraggiosi Fabrizio Ferrandelli in merito al bilancio da approvare e allo stato di salute delle aziende partecipate. Prima e tra tutti l'AMAT, l'azienda che a Palermo gestisce il trasporto pubblico. Più che un bilancio consolidato è la certificazione di un disastro dal quale viene fuori una perdita di esercizio di 242 milioni di euro con un disalineamento di 42 milioni di euro. Io non so chi si prenderà la responsabilità di approvare quest'atto di gestione non conoscendo come il Comune intende chiudere la partita debiti, crediti fra lui e le aziende controllate, cosa che può portare anche al fallimento di alcune aziende in testa l'AMAT. Elezioni amministrative 2018 mancano quattro giorni e c'è una direttiva nuova da parte dell'assessore Bernadette Grasso quindi ci saranno delle novità presso uno stop per le circoscrizioni. Ce ne parla Damiano Scala. Modalità di scrutinio cambiate e stop alle operazioni di sfoglio delle schede elettorali se le operazioni dovessero concludersi oltre al 3 di notte di lunedì 11 giugno con la ripresa però sei ore dopo ma solo per quanto riguarda i consigli circoscrizionali. Cambiano le regole in vista delle prossime elezioni previste per il 10 giugno per scegliere sindaco e consiglieri comunali oltre a presidenti e componenti delle sei circoscrizioni cittadine. Così ha stabilito l'assessore regionale all'autonomia e locali Bernadette Grasso. Domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 quindi non cambia nulla all'elettore cambia solamente ai scrutinatori al presidente di seggio, segretari e ai rappresentanti di lista ovvero sabato si costituiranno i seggi nel pomeriggio come avveniva prima c'era stata una piccola novità ma che è stata subito chiarita così dall'assessore Grasso mentre domenica alle 23 appena verranno chiusi i seggi nelle sezioni elettorali cominceranno le operazioni di voto. Una modifica all'atto di indirizzo sull'operazione di scrutinio che conferma comunque come le operazioni per la conta dei voti dei candidati sindaci e consiglieri comunali devono andare avanti senza interruzioni dopo la chiusura dei seggi. I presidenti di seggio avranno la possibilità di interrompere una volta finita il sorteggio per lo scrutinio per il sindaco di sospendere le operazioni di scrutinio alle ore 3 del mattino di lunedì e quindi riprendere poi nella mattinata le operazioni di scrutinio per il Consiglio Comunale qualora non si fosse neanche finito e dei consigli circoscrizionali. Parliamo adesso della vecchia storia legata allo sventramento del quartiere di San Berillo una storia che comincia alla fine degli anni 50 da qualche mese sono partiti lavori di riqualificazione ma secondo una parte dei cittadini mancherebbe trasparenza nell'affidamento dei cantieri di questo ha parlato l'ex magistrato Antonio Ingroia durante una conferenza questa mattina annunciando la presentazione di un esposto in procura. Una ferita aperta da oltre 60 anni proprio nel cuore di Catania le conseguenze dello sventramento del quartiere San Berillo Vecchio con il trasferimento forzato dei suoi abitanti a San Leone avranno fine quando il progetto dello studio Mario Cucinella sul rifacimento di Corso Martri della Libertà sarà eseguito. I lavori sono cominciati e prevedono parcheggi, palazzi gallerie commerciali, ristoranti, teatri e tante altre strutture che dovrebbero riqualificare una zona ormai in degrado da decenni. Il volume d'affari è enorme perché si parla di diverse centinaia di milioni di euro. Una parte dei cittadini non è convinta del modus operandi portato avanti dall'amministrazione comunale nell'affidamento dei lavori e ha denunciato una mancanza di trasparenza chiedendo all'avvocato Antonino Ingroia ex magistrato di presentare un esposto alla procura per chiarire le dinamiche. Oggi, dopo più di mezzo secolo costituisce una ferita nella città sono stati deportati i cittadini che vi abitavano e portati altrove e sono stati promessi da una giunta municipale all'altra mari e monti si potrebbe dire nel senso stretto e oggi in realtà anche la giunta bianco sta cavalcando questo progetto promettendo parchi, palazzi, palazzoni centri commerciali, hotel a 5 stelle e così via beh, quello che però i cittadini non sanno attraverso quali procedure attraverso quali contratti attraverso quali delibere attraverso quali concessioni e autorizzazioni insomma, i cittadini catanesi giustamente vogliono vedere chiaro Risollevare le sorti del quartiere dice Ingroia è fondamentale ma lo è altrettanto garantire che tutto l'iter si svolga con i giusti canoni di trasparenza Al di là dell'aspetto squisitamente penale e giudiziario si chiede che venga istituita dalla Regione dall'Assemblea regionale siciliana usiamo quindi questo anche un appello una commissione regionale di inchiesta su questo e su tanti altri scandali che ci sono stati a Catania e nel resto della Sicilia speculazioni edilizie speculazioni d'affare scelte da parte dell'amministrazione comunale per favorire dei gruppi privati che si sono ingrassati alle spalle dei cittadini catanesi Ma proprio in corso Marti della Libertà i lavori di riqualificazione hanno già portato ad un risultato cioè la consegna di alcuni spazi pubblici aperti alla cittadinanza vediamo degli apprezzamenti perché tutte le volte che viene realizzata un'opera di riqualificazione di rigenerazione urbana in una città come quella di Catania non possiamo che essere soddisfatti e inorgogliti di una città che diventa sempre più bella noi speriamo avendo così a grandi linee la conoscenza del progetto una volta che verrà realizzato nella sua interezza abbiamo visto che ci saranno realizzati dei parcheggi interrati quindi 340 posti auto e c'è anche l'interesse da parte di alcuni investitori inglesi per la costruzione di strutture alberghieri io credo che quella zona che è stata veramente devastata da tantissimi anni ormai oggi possa diventare invece una zona di attrazione per quelle tante attività imprenditoriali che vorranno insediarsi in un territorio che veramente è stato reso più bello a una città che merita veramente di avere bellezze di questo tipo noi speriamo auspichiamo invece che altre zone della città quelle più periferiche penso possono subire un restyling tipo quello di Corso Marti della Libertà perché quando una zona viene riqualificata viene rigenerata non si fa altro che accrescerne l'interesse da parte non solo degli investitori e quindi di coloro i quali vogliono fare impresa ma anche dei residenti dopo il divieto del ministero alla prologa dell'ordinanza per il conferimento nella discarica dei fratelli Catanzaro a legge allo spettro di una nuova emergenza rifiuti in provincia di Agrigento a Porto Empedo Cleine e Turbini scioperano di nuovo non c'è pace per la provincia di Agrigento in materia di rifiuti dopo il no del ministero alla proroga dell'ordinanza che permette alle discariche di conferire oltre i limiti di legge la situazione potrebbe adesso ulteriormente complicarsi i cancelli della discarica di Siculiana dei fratelli Catanzaro sono rimasti chiusi proprio per l'impossibilità di accogliere ulteriori rifiuti e al momento il problema pare essere sotto controllo soltanto a Licata e a Palma di Monteghiaro per il resto dei comuni sorge adesso un grande interrogativo sul conferimento nell'attesa di trovare una soluzione definitiva anche se lontana l'immondizia è stata trasportata e depositata presso la discarica di Lentini problemi su problemi a Porta Empedocle ad esempio è tornato lo spettro dello sciopero dei netturbini che ancora oggi attendono il saldo di diverse mensilità arretrate e che per questo motivo da due giorni hanno incrociato le braccia una situazione quella dei rifiuti in provincia di Grigento con alle porte la stagione estiva che torna tremendamente d'attualità a Catania degli autobus di linea urbana di linea urbana ecco questo è un autobus accessibile dotato di pedana meccanica però come abbiamo visto i marciapiedi è completamente privo di scivolette per diciamo per l'accesso alle carrozzine o anche a difficoltà motorie non avendo le scivole adatte e poter stare in sicurezza sugli appositi di marciapiedi devo stare qui in strada a rischio e pericolo mio perché sostanzialmente questa è la zona di transito degli autobus che sostano qui nel capolinea qui dovrebbe esserci la conchiglia che mi permetterebbe di salire sul marciapiede in mezzo alla strada noi proviamo a camminare perché non ci sono altre alternative tenendo conto che comunque anche sia la sede stradale che la sede del marciapiede è veramente in una condizione estremamente brutta da percorrere non esiste una conchiglia per salire sul marciapiede e devo continuare di nuovo a percorrere nella strada senza sicurezza magari noi catanesi in qualche modo siamo predisposti alla città perché conosciamo la nostra città ma io voglio immaginare un turista tantissimi turisti quindi questa è la condizione una città che dimostra di essere non molto accogliente da questo punto di vista strisce pedonali e regolarmente il catanese posteggia un'autovettura sulle strisce la via di San Giuliano è dotata di un altissimo numero di stalli per i disabili numerati che sono quelli a richiesta a domanda è strano vedere una concentrazione così elevata di stalli personalizzati per i disabili in una zona ad altissima intensità di traffico ci troviamo adesso qui nei famosi quattro canti in Viettennea proprio al centro della via più importante di Catania una via piena di negozi di monumenti abbiamo già visto tante insidie lungo il percorso tante azioni incivili degli automobilisti lasciando le autovetture la mancanza di strisce pedonali insomma abbiamo visto un po' quelle che sono le criticità al quale il futuro il prossimo sindaco di Catania dovrebbe tener conto per creare le condizioni di total quality non solo i disabili ma anche le persone che hanno ridotto la mobilità lo ripeto all'infinito quindi è una discriminazione è un abuso è una forma di indifferenza che tutte le amministrazioni ad oggi hanno tenuto come atteggiamento adesso basta adesso bisogna prendere coscienza e creare una città a misura d'uomo e renderla accessibile fruibile da tutti pub senza licenza nel cuore del centro storico la polizia ha sequestrato il caffè degli aragonesi di piazza Aragona nei prezzi di piazza Sant'Anna contestando al titolare di aver avviato l'attività di somministrazione di cibo e bevande senza la necessaria autorizzazione dopo alcuni sopralluoghi e accertamenti è stata elevata una sanzione di 5 mila euro i controlli della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura sono stati estesi anche ai centri scommesse gli agenti hanno accertato che in via Malaspina in un internet point veniva effettuata la raccolta abusiva di scommesse il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria mentre l'attività e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro preventivo un altro esercizio analogo con insegna Betaland è stato sequestrato in piazza Noce anche in questo caso gli agenti spiegano dalla questura sono riusciti ad accertare che anche nel locale si effettuavano scommesse in assenza dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento di queste attività sono stati effettuati altri controlli in numerosi locali della Movida con particolare attenzione per quelli che con musica ad alto volume disturbano il riposo notturno dei residenti le loro posizioni sono al baglio degli agenti che in caso di riscontro positivo eleveranno sanzioni aumentano le segnalazioni da parte dei cittadini per soccorrere gli animali selvatici gli animali e i randaggi soprattutto che sono in difficoltà richieste nella maggior parte dei casi non possono essere accolte a causa della chiusura del centro recupero fauna selvatica del mancato intervento da parte delle istituzioni l'EMPA lente nazionale per la protezione animali della provincia di Catania ha ora chiesto l'intervento del prefetto e conta di rivolgersi all'autorità giudiziaria è una strage silenziosa quella che riguarda gli animali selvatici e randaggi in Sicilia una situazione testimoniata dalle continue richieste di intervento per soccorrere gli animali in difficoltà le ultime avvenute negli scorsi giorni riguardano il ritrovamento di un delfino morto alla playa e il mancato intervento a favore di una tartaruga caretta caretta da cicastello un quadro che risulta essere ancora più drammatico dopo la chiusura del centro recupero fauna selvatica i problemi riguardano complessivamente tutta la fauna sostanzialmente non viene garantito nessun tipo di soccorso oggi ma fino a qualche anno fa con difficoltà si affrontavano i problemi attraverso il centro recupero fauna selvatica che ormai è stato chiuso da più di due anni proprio il centro è stato affidato alla ripartizione faunistica e venatoria ma all'interno non vengono più accuditi gli animali non vengono prelevati gli animali dal territorio non vengono curati quindi abbiamo un centro che aveva delle strutture che è stato chiuso finché era affidato ai volontari con una certa difficoltà si riusciva ad aiutare qualche animale molti animali non qualche si riuscivano ad aiutare molti animali erano in difficoltà con la chiusura di questo centro nella provincia di Catania non esiste assolutamente la possibilità di aiutare un animale selvatico una situazione rimasta in stallo soprattutto a causa del mancato intervento da parte delle istituzioni è un servizio che deve essere garantito per legge le istituzioni devono rispondere devono intervenire nel caso specifico degli animali selvatici ci si dovrebbe rivolgere alla polizia municipale che a suo volto dovrebbe attivare il servizio il servizio dovrebbe essere in questo momento garantito dalla ripartizione faunistica e venatoria la ripartizione faunistica e venatoria non ha personale preposto per tale compito e quindi non interviene nessuno noi naturalmente facciamo quello che possiamo ma non abbiamo neanche noi delle strutture idonee alla loro atteggenza non siamo attrezzati con un ambulatorio veterinario per poterli curare quindi comunque cerchiamo di fare tutto il possibile chiaramente il cittadino che si presta deve essere aiutato deve essere in qualche modo comunque sopportato per quello che sta facendo noi cerchiamo ripeto cerchiamo di fare il possibile però se le istituzioni non rispondono naturalmente è un problema serio che comunque ci portiamo dietro anche da un bel po' di tempo e tanti animali purtroppo proprio per questi motivi tante volte non ce la fanno nemmeno a sopravvivere parliamo di spettacolo per un splendido riconoscimento che è andato al nuovo teatro stabile di Masca Lucia attori amatori però molto bravi perché hanno vinto la maschera d'oro noi abbiamo intervistato la regista Rita Re e l'attrice Egle Santonocito sentiamo un ambito riconoscimento un grande vanto siciliano e più nello specifico catanese che accolto da Applausi e Standing Ovation ha certificato la bontà di un progetto teatrale giovane ambizioso e di qualità parliamo del nuovo teatro stabile di Masca Lucia compagnia etnea che lo scorso 24 marzo si è giudicata a Venezia la trentesima edizione della maschera d'oro noto premio nazionale la compagnia del comune catanese ha conquistato il riconoscimento grazie alla rappresentazione di uno sguardo dal ponte di Arthur Miller per la regia di Rita Re e proprio la regista insieme alla giovane attrice Egle Santonocito premiata come miglior attrice per la categoria giovani sono intervenute nei nostri studi per commentare questo importante traguardo abbiamo sempre abituato il nostro pubblico a degli spettacoli che non fossero soltanto quelli di tradizione o quelli più noti insomma più rappresentati e volevamo testare dopo 23 anni veramente se il pubblico avesse maturato questa nostra scelta artistica portata avanti nel tempo diversamente da quel concetto di amatoriale che è noto ai più cerchiamo di essere professionisti tanto nel nostro settore quanto nel fare teatro questo evidentemente è ben apprezzato la reazione del pubblico è stata bellissima abbiamo vinto anche un premio compagnia più gradita dal pubblico e questo è stato bello perché fino a quando si lavora in ambito comunale comunque catanese il riconoscimento ovviamente c'è ma è quello dei nostri compatrioti diciamo andando già fuori e andando al nord la nostra preoccupazione fosse anche quella appunto se potessero apprezzarci o se no invece è stato bellissimo avere questo riconoscimento da parte del pubblico la rappresentazione dello spettacolo messo in scena al teatro olimpico di Vicenza ha convinto la giuria e ricevuto i complimenti dalla federazione italiana teatro amatori una performance che ha sbaragliato le compagnie avversarie la trappola di Vicenza e il nucleo teatrale i complici di Bologna ci fermiamo per la pubblicità ma torneremo per parlare di sport 5 anni fa Catania era in ginocchio al buio oggi è la meta più amata dai turisti investimenti per 2 miliardi e mezzo lavoro per 15.000 persone la metro in Vietnea niente più code al Tondo Gioieni corso martiri dopo 60 anni è già un cantiere nei prossimi 5 anni avremo 120 autobus nuovi in metro arriveremo all'aeroporto non è un sogno è una città che si è rialzata che cammina che vuole correre Catania non si ferma Autocarrozzeria Ansaldo da anni nel settore dell'automobile si occupa della tua auto tra i nostri servizi installatore block shaft restauro auto d'epoca vetri oscurati rinnovo fari montaggio kit Xenon sensori di parcheggio modifiche tooling verniciatura con colori ad acqua Sikens ricarica aria condizionata ritiro auto al proprio domicilio auto di cortesia consulenze di sbrigo pratiche sinistri collabora con Ball System per la riparazione di auto grandinate e ammaccature da parcheggio senza interventi di verniciatura Autocarrozzeria Ansaldo a Catania in via Grasso Finocchiaro 91 e via Gaetano Donizetti 52-54 Sikens Hosanca ulica avere punti di vitto e aiutati processi da aspen pompopoli di appare sikens Sikens MixComb Tempo Josamente At Sikens a Sikens Sikens Come stare seduti sul divano di casa? E se sei un tour operator, contattaci. Come stare seduti sul divano di casa? In appena un mese Marco Cecchinato è entrato nella storia del tennis italiano, da illustre sconosciuto al tennista del momento. La vittoria di ieri contro il serbo Djokovic e prima con Capilla al primo turno, Trunghellitti, Busta e Goffin, ha fatto entrare nell'Olimpo dello sport il tennista palermitano e ha portato l'Italia in semifinale di Roland Garros dopo 40 anni. L'ultimo italiano è stato Corrado Barazzutti, uno dei moschettieri della Coppa Davis del 76 che avrebbe poi perso contro Bjorn Borg. È un'emozione grandissima. Per noi vederlo in tv è veramente un'emozione indescrivibile. Per tutti i bambini che lo seguono, per chi lo ha seguito tenisticamente anche nei momenti in cui magari da piccolo doveva ancora formarsi. Invece adesso lo vediamo veramente un tennista con tutti gli attributi per essere un grande campione. Adesso dopo anni di buio nell'Olimpo del tennis italiano arriva un palermitano ed è il sogno di Marco Cecchinato. Tanto ti posso dire che siamo ancora compagni di squadra qui nella squadra di Serie A1 del TC2 e quindi ancora ho il piacere di poter giocare con lui qualche partita. Poi ti devo dire che siamo sempre cresciuti insieme quindi questi momenti ci stanno regalando, anzi ci sta regalando proprio Marco delle emozioni incredibili. Sappiamo che è molto forte sempre ai vertici del tennis però sicuramente non ce l'aspettavamo prima di poterlo vedere a questi livelli. In semifinale il Roland Garros non succedeva da 40 anni un italiano quindi sono forti emozioni. Ieri durante i quarti di finale contro Diokovic il circo si è quasi fermato per un pomeriggio perché tutti erano accorsi nella sala bar dove c'è la televisione a compiere Marco questa impresa veramente storica. Vi riportiamo le simpatiche dichiarazioni di Marco Cecchinato che dice Non ho dormito granché ma oggi riposo assoluto e poi penso alla semifinale ho ricevuto tantissimi messaggi ma ho potuto rispondere solo ai familiari. Quando finisce Parigi promesso rispondo a tutti. Marco Cecchinato ancora non riesce a credere all'impresa compiuta con la semifinale del Roland Garros conquistata 40 anni dopo. Corrado Barazzutti ultimo azzurro deve raggiunto l'obiettivo. E' partito tutto da Budapest racconta il tennista con al telefono con Non è un paese per giovani su Radio 2. Il primo ATP vinto da piccolo sognavo di diventare un giocatore professionista ma non ero fortissimo. E ora ringrazio le poche persone che hanno creduto in me. Tutti i sacrifici sono ricompensati e questo è un sogno che si realizza. Fila di fans sotto l'albergo ma ha detto Cecchinato sono fidanzato a Gaio ho detto stai tranquilla è tutto come prima. Andiamo avanti parliamo di calcio e parliamo del Palermo perché proprio oggi scattano i playoff di serie B. Spareggi che mettono in palio l'ultimo posto valido per la serie A. Questa sera il Palermo debutta a Venezia contro la squadra di Pippo Inzaghi. Partirà alle 21 di questa sera lo stadio Pierluigi Penso di Venezia. C'è il cammino playoff del Palermo. I Rosanero piazzatisi al quarto posto nella regular season hanno dovuto pazientare tre settimane prima di scendere nuovamente sul rettangolo di gioco. Stellone in coro i giocatori sembrano aver smaltito l'amarezza della mancata promozione diretta. Contro i Lagunari allenati da Pippo Inzaghi non ci sarà spazio ai calcoli. Si ragiona nell'ottica dei 180 minuti. Doppia sfida che si pronuncia spettacolare. I Rosanero non hanno uno score favorevole contro i Veneti. Nella stagione regolare un pari a reti bianchi al Barbera ed una cocente sconfitta in trasferta. Un 3-0 che brucia ancora. Da quel 27 aprile di acqua sotto i ponti ne è passata e soprattutto dopo quel KO è subentrato il nuovo tecnico Roberto Stellone. Che in occasione dell'andata dei playoff potrebbe proporre un 4-4-2. Muraschi e Iaialo in mediana e la coppia Lagumina-Nestorowski in attacco. Il Macedone ha recuperato ed è in ballottaggio con il connazionale Traikovski e l'altra punta Moreo per una maglia da titolare. Da tener d'occhio anche la posizione di Coronado. che potrebbe a gara in corsa agire nella sua posizione preferita, quella di trequartista. Si parte alle 21, fischietto della gara affidato al signor Chiffi della sezione di Padova. Un'altra partita fondamentale è quella che si gioca questa sera all'Artemio Fraichi di Siena. Di scena c'erà il Catania e la gara ad andata delle semifinali di playoff. Potrebbe esserci una rotazione per quanto riguarda l'utilizzo dei giocatori rosso-azzurri. E questo in vista della gara di ritorno. È il giorno di Siena-Catania. È il primo atto della doppia sfida che sancirà una delle formazioni in corsa per la finalissima di Pescara. La semifinale dell'Artemio-Franchi che vedrà faccia a faccia due squadre arrivate in seconda posizione nel rispettivo raggruppamento di terza serie. È un impegno che metterà dura prova a nervi e fisico. Catania e Siena disputeranno infatti la terza gara in sette giorni. È d'obbligo ricorrere alle armi a disposizione. Quelle dai più ritenute secondarie. In poche parole a fare la differenza potrebbero essere le seconde linee. Lucarelli approdato in Toscana con 24 giocatori al seguito. Unico assente Giuseppe Fornito. Potrebbe infatti scegliere di vagliare nuove soluzioni in campo. Chiamatelo pure turnover da Final Four. I rossazzurri hanno un fit organico e di qualità. Il tecnico toscano potrebbe scegliere di tenere a riposo Lodi e Aia nella prima parte di gara privilegiando gli spunti di Mazzarani a centrocampo e la solidità di Luca Tedeschi come terzo centrale di difesa. Il modulo non si tocca. 3-5-2 confermato. Stessa cosa si può dire per Russotto, l'intoccabile nel reparto avanzato. La Robur-Siena con pagina temibile, reduce dal Rocambolesco 2-1 contro la Reggiana. Vittoria col giallo decretata da un dubbio rigore al 98esimo che ha fatto infuriare Granata. L'ultimo incrocio tra le due squadre risale invece al dicembre del 2012 quando gli etnei si imposero per 3-1 in rimonta grazie a Castro e la doppietta di Bergessio. Sei anni dopo i riflettori saranno puntati ancora sul Franchi quando alle 20.30 ci si giocherà un'altra fetta di Serie B. Vi ricordo che Ultima TV seguirà con Febbre a 90, speciale playoff Catania. Ovviamente la partita, noi commenteremo insieme ad ospiti in studio. Avremo anche una serie di collegamenti in diretta con Piazza Università dove è stato allestito un maxischermo per permettere ai tifosi del Catania di seguire la partita dopo il divieto di trasferta imposto dalla Lega. Ultima TV si chiude qui, grazie per l'attenzione. Prossimo appuntamento alle 17.30, più tardi.